Abbiamo inaugurato la ristrutturazione, la messa in sicurezza della scuola media qui a Sant'Omero. Oggi inauguriamo anche la palestra rinnovata, riqualificata, dove sono stati investiti 140.000 euro che hanno permesso il rifiacimento completo del tappeto per l'attività del fondo, il completo efficientamento energetico della struttura, il rifacimento della centrale termica e la copertura della struttura. Un investimento importante che finalmente dà il nuovo decoro alla struttura e restituisce alla comunità scolastica e a tutte le associazioni sportive del nostro territorio un impianto che può essere utilizzato sia per quanto riguarda la pallavolo sia per quanto riguarda il basket in quanto abbiamo ottenuto già l'omologazione da parte delle federazioni.